Ciao! Allora, oggi è Natale, vi voglio... sono qua con la mia amicia, eccola qua, fatti vedere, fatti vedere, ciao! Ci sono anche i micetti da qualche parte, perché dovete sapere che io sono un Grinch, ma a me il Natale non piace. Cioè, perlomeno, ok, è una festa, si sta in compagnia, io sono scappata da tutti perché non ne posso più, ne ho due palle veramente che mi casano per terra, altro che quelle dell'albero di Natale. Quindi, pranzo, la cena, poi non si fa un cazzo perché oggi c'è stata una giornata, all'inizio era stupenda, è arrivato il pomeriggio, una merda, cioè nebbia dappertutto, Volevano a farci un giro sul lago, magari c'era qualche bancarella, boh, neanche quello, cioè a casa proprio, du coglioni così. Allora vabbè, buon Natale a tutti, comunque, a me è proprio giorno come un altro. E volevo dirvi che volevo caricare un video più avanti, adesso non so quando, appena trovo un attimo, che vorrei farvi vedere un po' di regalini così, che l'ha fatto mio amoroso, mia sorella, e insomma, qualche regalino giusto per fare un video, perché so stufa, non so che video fare, e ho voglia di fare un video. E poi due caccate che mi sono comprata, due cazzatine che mi sono comprata io, e basta, niente di che, ma giusto per fare un video e parlare un po' in compagnia. Questo è un video scazzo, per fare un video auguri, magari lo carico anche subito. E niente, vero amico, ci stiamo rompendo le palle, sì, di lì, di lì ciao a tutti, a me non me ne frega niente, io dormo. Sono in camera di mia nonna comunque, se non si era capita. Adesso ormai mi verranno anche a cercare, perché è tipo mezz'ora che sono qua. Difatti Difatti, stavo dicendo, sì, Micia, ti stai rompendo, lo so, vieni con me, dai. Non possiamo farlo uscire dalla camera di mia nonna, perché abbiamo due cani di là, vabbè il mio è abituato, invece quello del mio amoroso, me la si mangerebbe il mio gatto, quindi è meglio che il gatto rimanga in camera. Vieni qui, dai. Comunque alla fine, sì, mi è venuta a cercare solo mia nonna, e gli altri non me ne può fregare di niente. Basta rompere le palle, vieni qua. Bravo amore. Agile, sei agile, sì, di lì, sì, bella col colore sei. Stavo dicendo, guarda, guarda, dici ciao, ma, scusate il video un po', così, a cazzo, avevo voglia di parlare un po', e niente. Outfit di oggi, ve lo dico in breve, maglionci, sì, maglionci, dolce vita nero, jeans e ciabatte. Bello, eh? Poi no, volevo farvi vedere nel prossimo video, vi farò vedere gli stivaletti nuovi che mi ha regalato un mio amoroso. Un'altra cosa che mi ha regalato mia sorella su amoroso. Questo. No, dai, niente di che, alla fine, non è che abbia tanta cosa, sapete, ma è lo stesso, cioè, mi fa piacere ricevere regali, però... C'era anche lo stesso, io non sono una tipa materialista, anche se devo dire che se ricevo una paghetta non mi dispiace. Difatti, vabbè, a parte paghette della nonna, della sua ocera, così, va bene tutto, insomma, dai. Ci accontentiamo e va bene così, vero, amicia? Sci che bisogna. Ecco, volevo dirvi, aggiornarvi di questo e basta. Non ho più fatto video outfit perché... Non avevo parte voglia, cioè, sapete quando non avete proprio voglia. Quindi, magari, ho il momento che ho voglia di star lì, ore e ore, anche a parlare, e sono logo erroica, lo so. E momenti che non ne ho voglia. Quindi, non seguirò benissimo il canale, cioè, magari non caricherò video tutti i giorni, ma... Una volta ogni tanto, giusto per, ecco. E quindi, niente, vi saluto, vi mando un bacio grande. Il Grinch vi saluta, buon Natale, non è vero, ma vabbè, buon Natale a tutti. E al prossimo video, ciao!